Un tavolo unito e sinergico per gestire le emergenze ma soprattutto per la prevenzione. E' con questo obiettivo che in mattinata è stata inaugurata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia la Sala Operativa Provinciale Integrata di Difesa e Protezione Civile. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre alle autorità locali, il Sindaco Piero Castrataro, il Presidente della Provincia Alfredo Ricci, il Prefetto Gabriella Faramondi, il Questore Luciano Soricelli, anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Claudio Parisi e il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega. Una sala operativa che rappresenta un modo concreto e rilevante per la gestione dell'emergenza e della prevenzione tra tutte le autorità competenti, Prefettura, Comando Provinciale, Comune e Provincia. È un esempio importante, un esempio che deve poi ovviamente dare il via a un percorso collaborativo forte tra le istituzioni locali perché vedete in realtà si potrà fare vera prevenzione e sicura gestione dell'emergenza solo con una sinergia operativa concreta. Un'altra cosa che è emersa al tavolo è la necessità di far crescere nel territorio da parte di tutti, di ciascun singolo cittadino una responsabilità, un senso di cittadinanza attiva, di essere in grado di compartecipare insieme alle istituzioni al farsi della sicurezza. Quindi non qualcosa che cala dall'alto ma qualcosa che effettivamente vede ogni cittadino attento e questa sarà veramente la sfida del futuro. La grande sfida, ha commentato il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia, presente alla cerimonia di inaugurazione, e trasformare questo tavolo in un tavolo di prevenzione per ottimizzare tutte le risorse messe in campo dal governo per la rigenerazione urbana, il dissesto idrogeologico o il super bonus. Il Molise è da sempre sotto i riflettori perché nonostante sia magari poco incisivo a livello di presenza demografica sicuramente ha una grande attenzione a livello politico, anche perché questo è uno dei territori che custodisce delle bellezze paesaggistiche molto importanti dalle quali di ripartire. E secondo me tutte le misure messe in campo da questo governo, dai governi precedenti, sono proprio atte a dare una sensazione specialmente di produzione da parte degli enti locali di sicurezza per il territorio. Da questo parte la riduzione del rischio per gli alluvioni, la riduzione del rischio per quanto riguarda episodi franosi che oggi magari tengono bloccati alcuni comuni di queste province. Quindi questo è l'impegno da parte del governo e oggi anche con questa sala operativa facciamo un passo in avanti.